In questo video vi farò vedere come sia possibile automatizzare Chagpt per analizzare immagini satellitari e per farlo vi mostrerò un proof of concept, quindi un piccolo progetto, che abbiamo realizzato. Vediamo subito come funziona. Quello che vedete è Airtable, un database visuale che ci permette di gestire i nostri dati. In questa tabella troviamo le baie, in questo momento due, e in quest'altra tabella invece troviamo tutti i commenti relativi a quelle due baie. Ora andremo ad aggiungere una nuova baia, a recuperare automaticamente le immagini da Google Maps, le immagini satellitari. Queste immagini verranno analizzate e le informazioni desiderate estratte. In seguito andremo a lasciare un commento alla baia e a filtrare quei commenti che non sono appropriati, magari con delle parolacce o degli insulti o semplicemente che non vogliamo mostrare ai nostri utilizzatori. Inoltre questi commenti verranno corretti da un punto di vista grammaticale o della sintassi, o magari se viene utilizzato uno slang. Andiamo subito quindi a inserire la nostra baia. Per questo esempio scelgo la baia La Mala, che è una spiaggia vicino a Nizza. Inserisco le coordinate della baia. E quello che succede è che abbiamo la nuova baia che viene aggiunta alla nostra tabella. Con le coordinate e tra qualche secondo vedremo che compariranno le immagini satellitari insieme all'analisi di quell'immagine. Ed ecco che abbiamo le immagini recuperate via Google Maps della baia insieme all'analisi. In questo caso ho richiesto due tipologie di zoom, una un po' più ampia e l'altra un po' più stretta, in modo tale da avere una visione completa della baia. Qui abbiamo l'analisi, quindi per esempio mi dice che c'è una barca traccata e quindi vuol dire che probabilmente l'ancoraggio è permesso. Vede che la spiaggia è di sabbia e quindi probabilmente il fondale anche sarà di sabbia. E in seguito capisce che la baia è protetta a nord, nord-est, sud e sud-est. E effettivamente è corretto perché abbiamo protezione a nord, est e sud-est. E qui andiamo a salvarci le stesse informazioni ma in singoli field. Per esempio poi nota che ci sono dei ristoranti, bar, insomma degli edifici vicino. C'è una spiaggia, non c'è un pontile e probabilmente visto che ci sono degli edifici sulla terraferma, probabilmente c'è la possibilità anche di rifornirsi di acqua dolce. E inoltre qua vado a indicare cinque ristoranti che si trovano nel raggio di un chilometro rispetto al punto indicato. Ora andiamo a inserire una review. Quindi utilizziamo un altro formulario, sempre di Artable, e andiamo a inserire la nuova baia indicata. E andiamo volontariamente a inserire degli errori grammaticali. Quindi magari inserisco acqua bellissima, sole pieno, ci siamo divertiti tantissimo. Magari con una X. E andiamo a inserire il rating e andiamo a inserire la nostra review. In questo caso abbiamo un nuovo record, quindi una nuova review che viene inserita nella nostra tabella reviews. Ed ecco che l'intelligenza artificiale ci corregge il nostro commento in modo tale da renderlo più leggibile e professionale. Quindi acqua bellissima, sole pieno, ci siamo divertiti tantissimo. Inoltre, se per caso lasciassimo un commento inappropriato, magari dicendo un bastardo mi ha rubato il dinghi, in teoria vediamo se riconosce l'inappropriatezza di questo commento, in teoria non dovrebbe correggermelo e dovrebbe segnalarmi che è inappropriato. Ed è così, quindi non viene mostrato, insomma non viene corretto e una X mi indica che quel commento non è appropriato, perché non vogliamo mostrarlo. Inoltre, siccome magari alcune baie potrebbero avere tantissimi commenti, vogliamo creare un commento unico con i punti salienti per ogni baia. Quindi se andiamo a scegliere questa volta una baia che ha già vari commenti, quindi per esempio Medell'Angustiere, e inseriamo baia bellissima, ci siamo divertiti un mondo. Qui andiamo a vedere come automaticamente abbiamo un nuovo commento per questa baia e quindi andremo ad aggiornare l'opinione della comunità. Vedete che viene contornato di verde e abbiamo questi quattro punti salienti basati su tutti i commenti dei nostri utenti che vengono aggiornati. Questo perché? Perché abbiamo tutti i commenti in un unico field. Ora vediamo come è stata costruita l'automazione su Make. Se il video vi sta piacendo, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi sui vari social che trovate in descrizione. Approfitto anche per dirvi che nel 2024 stiamo lavorando per lanciare la prima NoCode EIA Academy italiana. Questo per portare l'educazione al NoCode, a questo mondo, a questo nuovo paradigma per la creazione di software in Italia. Stiamo cercando i primi 100 partecipanti che potranno iscriversi gratuitamente e accedere alle nostre formazioni come beta tester, quindi gratuitamente per poterci dare un feedback. prima di rilasciarle al pubblico. Se vuoi approfittarne e accedere alle formazioni gratuitamente, trovi il link in descrizione. Ora vediamo più nel dettaglio come tutto questo è costruito. Come vi dicevo, Airtable è un database visuale dove salvo i miei dati. Nell'esempio che vi ho mostrato, andiamo a inserire il nome e le coordinate della nostra baglia. E questo lo facciamo tramite un formulario. Quindi Airtable permette di creare automaticamente i nostri formulari, quindi magari aggiungendo un gruppo, semplicemente con un drag and drop, che fanno riferimento ai nostri field, quindi alle nostre colonne. In questo caso io volevo solo inserire nome e coordinate, in modo tale da inserire semplicemente queste due informazioni, in quanto semplicemente grazie a queste due informazioni sono in grado poi di andare a estrarmi tutte le altre automaticamente. Come viene fatto ciò? Con un'automazione. Airtable permette tramite le automazioni di settare un trigger, quindi un'azione che scatena l'automazione, in questo caso la creazione di un nuovo record, quindi la creazione di una nuova riga, e di rannare in seguito, quindi il trigger è un nuovo record che viene creato e l'azione invece è quella di rannare uno script, quindi un pezzo di codice che ci permette di collegare, di passare quelle informazioni, quindi il nome della baia e le coordinate, a make. Quindi make lo colleghiamo tramite un webbook, che è un URL, un link, che ci permette di passare i dati. Ovviamente cambierò il mio webbook URL, in quanto sennò potreste passarmi voi tutti i dati al mio webbook. Quindi tramite il record ID andiamo a inserire, mi raccomando inserite sempre la variabile, quindi in questo caso il record ID, e linkatela alla variabile, al valore reale all'interno della vostra tabella. Questo ci permette, appunto nel momento in cui un nuovo record è creato, di passare, quindi le coordinate, a make. Quindi passiamo su make, che è il nostro tool di automazione preferito, e il primo scenario sarà quindi quello di analizzare l'immagine. Come vedete, qui ho un webbook. Questo link sarà esattamente lo stesso che avete visto prima su Airtable, nello script. Quindi nel momento in cui c'è un nuovo record, le informazioni arrivano qui, quindi questo webbook è in ascolto, mi ritorna il record ID, grazie al record ID mi recupero tutte le informazioni relative a quella riga, quindi le coordinate, e grazie alle coordinate a quel punto posso andare a inserire la mia latitudine e longitudine all'interno del modulo Google Maps per recuperarmi gli screenshot satellitari. Quindi scelgo che mi ritorni in PNG, Mapsite, posso anche scegliere il terreno, ibrido, insomma, tutto quello che l'API di Google permette. e lo zoom. In questo caso io decido di richiedere due zoom, quindi uno a 17 e uno a 18 in modo tale di avere un'analisi migliore. In seguito, sempre tramite un altro endpoint di Google Maps, invece vado a cercarmi i ristoranti vicini, quindi massimo 5 nel raggio di un chilometro. Vicini ha sempre la latitudine e longitudine indicata. I cinque ristoranti trovati li aggrego tramite questo modulo che è Text Aggregator e li separo tramite con una virgola e uno spazio. A quel punto vado a caricare le mie immagini in una cartella Google Drive e come vedete vengono automaticamente mappate quindi sia una che l'altra e finalmente posso andare a creare chiamare l'endpoint di OpenAI tramite il modulo OpenAI inserire il mio prompt come vedete è un prompt abbastanza lungo e preciso in quanto devo descrivere come voglio che quell'immagine sia analizzata quindi vedere se ci sono barche vedere se c'è la terra a nord a sud a est a ovest in modo tale da identificare la protezione dal vento andare ad analizzare se c'è un pontile per sapere se se il pontile esiste o meno se ci sono delle strutture che possono indicare la presenza di un rifornimento di acqua dolce insomma qua bisogna veramente dettagliare esattamente come vogliamo la nostra che la nostra risposta sia e le informazioni che vogliamo cercare in quell'immagine e inoltre ho inserito anche un esempio di una risposta corretta con tutte le informazioni desiderate qui vado a indicargli quindi a caricargli le immagini a scegliere il modello in questo momento ce n'è solo uno GPT4 Vision i token da utilizzare la temperatura e la creatività che vogliamo dare al modello GPT quindi da 0 a 1 0 sarà meno creativo 1 molto più creativo in seguito questo endpoint di OpenAI mi permette di strutturare la risposta quindi vado a passare la risposta creata dal modello prima quindi dal modulo prima e in seguito questo mi permette di avere la risposta in un formato JSON che è un formato molto utilizzato per le API una struttura dati che mi permette di poi andare a salvare tutte le informazioni nelle singole colonne come abbiamo visto in precedenza in seguito recupero il link per fare il download dell'immagine e salvo tutto su Airtable quindi vado a indicare la mia tabella e vado a inserire l'url e il link vado a dare un nome al file all'immagine e poi vado a salvarmi tutte le mie variabili all'interno della tabella come abbiamo visto infatti nel momento in cui abbiamo inserito le coordinate poi tutti questi campi allora questi due latitudine e longitudine sono un campo formula su Airtable quindi semplicemente recupero da fare un parsing diciamo delle coordinate in un caso recupero la latitudine in un caso la longitudine in quanto il formato su Make per l'API di Google Maps non doveva essere questo ma doveva essere in questo modo qua e doveva averlo in due campi separati in seguito come vi dicevo le immagini e l'analisi delle immagini viene popolata in maniera automatica allo stesso modo avremo i commenti quindi New Review allo stesso modo come avete visto ho un formulario in questo caso chiedo di selezionare l'ancoraggio la baglia lasciare un commento e una una valutazione allo stesso modo ho un'automazione quindi nel caso ci sia una nuova Review in questo caso la tabella non sarà più quella degli ancoraggi ma quella delle Review ma il principio è lo stesso c'è una nuova Review quindi chiamami quest'altro Webbook e passami le informazioni di quel record e le informazioni di quel record saranno il commento sarà semplicemente il commento che vogliamo correggere e valutare e moderare nel caso sia inappropriato quindi in questo caso lo scenario relativo è questo qui quindi Correct Review quindi anche qui abbiamo un webbook in ascolto nel momento in cui viene creato un nuovo commento recuperiamo il record ID quindi l'ID di quella nuova riga recuperiamo le informazioni di quella riga tramite il modulo di Airtable e allo stesso modo andiamo a indicare tramite un prompt come vogliamo che quel commento sia riscritto e nel mio caso gli dico per esempio mantieni la lingua che è usata dall'utilizzatore se è italiano mantieni italiano eccetera riscrivilo in maniera grammaticalmente corretta e con una buona sintassi e poi se trovi del contenuto inappropriato segnalamelo come prima andiamo a strutturare la nostra risposta in modo tale da dirgli se il contenuto inappropriato ritornami una stringa vuota quindi un commento che non esiste in modo tale da non mostrare nulla oppure ritornami checked nel caso sia inappropriato per il secondo field in modo tale da far comparire la se questa checkbox è checked quindi comparirà la la x per segnalarmi che questo commento non era non è non è appropriato allo stesso modo andiamo a fare un update del nostro record su su airtable in cui andiamo a inserire il nuovo commento quindi quello corretto e lo score quindi se appunto viene ceccata la checkbox o meno quindi se non è appropriato infine nel momento in cui abbiamo un nuovo commento qua come vedete qua abbiamo un field particolare che si chiama ancoraggi e questo è quello che permette airtable di fare le relazioni tra le varie tabelle essendo un database relazionale quindi qua ho linkato questa colonna alla tabella ancoraggi e come vedete in questo caso non permetto di fare link a più record in quanto un commento può essere legato solo a una baia se invece andiamo alla baia anche qua chiaramente avremo il link al contrario quindi avremo i commenti ma come vedete qua invece ho permesso di linkare a più record in quanto una baia può avere più commenti quindi automaticamente se viene aggiunto un nuovo commento avremo il nuovo commento che viene aggiunto a questa a questa baia in questo caso vede solo un commento in quanto uno era inappropriato e quindi me lo segnala mi dice guarda che c'è solo un commento in ogni caso ti genero un overview generale in questi altri casi abbiamo tutti i commenti in quest'altro field che si chiama roll up che ci permette di andare a recuperare tutti quei commenti di quella baia quindi in questo in questo field abbiamo tutti i commenti relativi a vede langoustière e in questa cella invece tutti quelli relativi a turoxbay in modo tale che in seguito qui abbiamo un recap anche qui abbiamo una terza e ultima automazione su make in cui generiamo l'opinione della comunità quindi anche qua avremo un webbook in quanto su airtable abbiamo un'automazione che è update community opinion quindi in questo caso il trigger è diverso quindi è quando un record è aggiornato in questo caso il record è all'interno della tabella ancoraggi e il field che voglio vedere a livello di aggiornamento è all comments che è quello che conteneva tutti i commenti quindi il momento in cui un nuovo commento è aggiunto a questa colonna allora anche in questo caso mi chiama il mio webbook su make che sarà un terzo webbook in ascolto passa il record ID posso recuperare le informazioni di tutta quella riga e andare a aggregare e a crearmi il mio recap sintetizzato di tutti i commenti e salvarmelo in questo caso all'interno della colonna communities opinion che è questa qui spero che questo video vi abbia fatto capire le potenzialità nell'unire il no code e l'intelligenza artificiale se siete curiosi di scoprirne di più e volete partecipare alla rivoluzione del no code in Italia stiamo lavorando per lanciare la prima academy no code italiana stiamo cercando quindi 100 persone che avranno accesso gratuitamente alle nostre formazioni in beta in modo tale da avere il vostro feedback per poi rilasciarle al pubblico se vuoi approfittarne trovi il link in descrizione noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti